we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi wow 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 anche oggi un sacco di novità per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite come sapete oramai la prima fase finale delle qualifiche per la world cup è terminata ci sono già i primi nomi vi ricordo ragazzi che i punteggi considerati sono quelli dei primi otto giocatori in europa per questa fase domenicale nel video di oggi parleremo però delle news degli scavi qualcosa di molto molto particolare che un po mi ha lasciato sconcertato vi farò vedere ma ovviamente dai mi sembrava un po strano che non succedesse è stato beccato un hacker alle world cup abbiamo il video ragazzi vi faccio vedere che diamine combinava questo pazzo fulminato e anche un'immagine super interessante del nuovo deltaplano spoilerato per sbaglio da epic games in un tweet ufficiale prima però ragazzi permettetemi voglio ringraziarvi tantissimo per utilizzare il mio codice creator xyuderone nello shop grazie di cuore ragazzi per il mega supporto che mi date mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna news sui miei video e sulle mie live ma prima però ragazzi e dai è la domandina la domandina ve la devo fare sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e è una domanda è molto molto personale questa domanda ragazzi voglio farvela proprio così ma quale preferisci tra le due la skin che è uscita ieri della golfista la beardy oppure la skin della ragazza del volley entrambe skin che hanno riscosso un grande successo nella community di fortnite a me personalmente piace molto di più in versione golf sì mi piace mi piace ci sta veramente un botto ce l'ho sono stracontento di avercela ditemi invece tra voi qual è la vostra preferita qui sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere questi benedetti scavi quelli ragazzi più importanti che ovviamente hanno catturato l'attenzione di tutta la community di fortnite sto ovviamente parlando di quelli a sponde del saccheggio vi avevo fatto vedere nel video di ieri mattina come era stato scoperto che il contorno della placca in metallo degli scavi a sponde del saccheggio coincideva con l'immagine di caricamento che ci hanno dato nella settimana numero 7 e quindi sotto sappiamo benissimo che c'è il tesoro qua ovviamente in questa immagine siamo lì a sponde siamo vicino anche agli scavi ma la cosa veramente strana è che se noi utilizzando il drone nella modalità replay andiamo c'è un modo per andare un po più sotto alla mappa vediamo che in realtà non c'è nulla non c'è niente che ci faccia intendere che sia già disponibile qualcosa sotto terra quindi la domanda è molto interessante e la domanda che mi faccio è non è che una trollata violenta di epic e sotto qua non c'è niente o meglio non è ancora disponibile la parte grafica di quello che ci sarà sotto ma se così fosse com'è possibile che abbiamo scaricato 7 giga di aggiornamento settimana scorsa per per arrivare alla pace 8.3 ragazzi la cosa è un po strana io volevo condividerla con voi e vi faccio anche vedere un'altra immagine che è questa questo è il render ufficiale di sponde del saccheggio preso direttamente dai codici del gioco cosa vuol dire vuol dire che nei file di gioco è presente l'immagine della location sponde del saccheggio è nuda quindi senza gli elementi senza le rocce senza i pezzi del cubo senza gli alberi senza le barchette insomma questa è quella dove poi si montano tutte le immagini e noi quindi vediamo quello che giochiamo e non c'è niente neanche qua ragazzi quindi è assurda questa cosa continua a chiedermi che che cacchio abbiamo scaricato per 7 giga ragazzi 7 giga sono tantissimi io mi aspettavo di trovare roba che venisse rilasciata o hanno nascosto tutto ma è un po strano o ci hanno preso per il colon io ragazzi non lo so però volevo condividere con voi queste news appunto per rendervi partecipi di quello che sta succedendo dietro le quinte di questo aggiornamento ma andiamo avanti e parliamo di un argomento molto molto veloce mancano due skin ancora da ottenere presenti invece nei file della patch 8.30 in realtà sarebbero tre le skin per le armi ma una sappiamo che fa parte dell'inferno pack la prima è questa che è davvero molto molto carina io l'ho vista in game adesso non perdo tempo a farvela vedere però è molto molto carina e la seconda invece è questa che non è altro che la skin relativa alla bandoliera quindi la palla la controparte femminile uscita la tizia quella di colore con il con la cartuccera se guardate i suoi pantaloni sono esattamente identici a questa mimetica e quindi aspettiamo e speriamo che arrivino ben presto anche queste due skin per le armi ma andiamo avanti e parliamo di quello che è successo alle world cup ragazzi come sapete il 12 e il 13 aprile si sono giocate la prima fase delle world cup quindi le qualifiche il sabato e le finali la domenica poi vi farò un video per spiegarvi bene come funzionano perché non è successo niente per chi ha detto non ti sei qualificato non funziona proprio così sono altre quattro sessioni da fare ma cosa diamine è successo il player jonathan intanto vi faccio vedere un tweet ufficiale del team caliber o caliber non so come si chiami deve essere comunque un team abbastanza famoso perché ha veramente un sacco di follower loro hanno chiccato dal team il signor jonathan cosmala perché sono rimasti scioccati da quello che hanno visto in rete e voi dite cosa hanno visto in rete l'han visto nudo no ragazzi no il signor jonathan cosmala ha fatto un patto con un hacker in modo che ottenesse dei privilegi in game voglio farvi vedere in modo da farvi capire ragazzi guardate un po guardate un po questa non è una partita relativa alle world cup e perché si vede meglio in questa in questo foto che in queste immagini ed è un video pubblicato direttamente dall hacker sul suo canale youtube che mostra appunto e che smerda in poche parole ne ha pubblicati due quello delle world cup e questo guardate insomma che diamine succedeva cioè il tizio guardate sapeva dove erano tutti gli altri avversari cioè proprio easy vedete che c'è nella struttura delle cose arancioni la qualità non è un granché cioè lui sapeva e riescono a sparargli ugualmente nonostante lui sappia dove erano dove sono le persone lui ha un software che accende quando parte fortnite e che gli fa vedere nei riquadri arancioni dove sono i giocatori mentre lui li vede col personaggio quindi è assurdo guardate guardate e riesce comunque a buscarle in realtà qua ha 4 kill ma nel video quello delle world cup se non ricordo male ne ha fatti tipo 11 di kill e la gente si è un pochettino insospettita vedi 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 lui adesso qua è più comodo perché lo vede e ce l'ha praticamente davanti ma lui a distanza illimitata vede il quadrato arancione con il nome del player e dov'è qua anche il coraggio di ballarli raga anche il coraggio di ballarli io non ho veramente parole come vedete è una cosa che appunto ha addestrato uno scandalo non indifferente nella community ovviamente è arrivato subito questo video anche a ep games che ha provveduto appunto al ban del giocatore quindi ragazzi mi raccomando se pensate di utilizzare hack cheat o roba del genere attenzione perché rischiate violentamente oltre al ban anche una causa legale che dovrebbe essere stata aperta appunto per frode in un evento ufficiale o roba del genere beh ragazzi io mi sono dilungato già tantissimo per il video di oggi ma voglio ringraziarvi per averlo guardato mi raccomando codice creator xioderone iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao